Benvenuti amici. L'appuntamento odierno del Festival Internazionale Alessandria Barocca e non solo, si svolge a San Sebastiano Curone presso la Casa del Principe, un luogo d'arte, un luogo suggestivo, così come suggestivo è il titolo del concerto tratto dalla poesia Nostalgia del poeta spagnolo Federico García Lorca, L'anima penetrò nel cuore. È un titolo che evoca dolcezza, profondità di sentimenti, varietà di emozioni, fantasia. Tutto questo è il barocco e tutto questo ci regaleranno i musicisti dell'ensemble L'Archicembalo in un concerto dedicato ai capolavori del barocco musicale italiano e tedesco. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.